Comunque credo di poter confermare che i giochi che mi crashano sono quantomeno della square, questo non è crashato nemmeno una volta. Ma chissà perché crasha. Ce n'è un altro. Sono qua, no, che cazzo è forma gruppo? Che cazzo succede? Vedo i pallini. Ho fatto forma gruppo e loro si sono uniti, ma non so perché l'ho fatto. Magari ci possono dire, non lo so, ci sentite? Se siete italiani ditelo. Se siete inglesi ditelo comunque che io lo capisco. Scrivete bel tiro. Scrivete Stefano 71 puro. Questa macchinina è dedicata a te. Chissà se c'è un culo anche da mettere sopra la macchina. No, è proprio un culo, tipo al posto del cuore. Qualcuno ha disegnato un pisello sull'arena ma non so né come ha fatto né come si possa fare. Ma qui su PlayStation 4? Non lo so, ho visto solo l'immagine. Ho visto l'anteprima di YouTube. Spero su PC. Sì, quindi c'è un'anteprima di YouTube dove c'è un cell. No! Ah, merda. Vai, te la ripasso. Che cazzo fa quello mantenersi? Eh, col turbo, però ci vuole... Però è un turbo speciale, perché quello normale non fa così. Eh sì, gli devi dare tipo dei colpetti. Ah, è mezzo, è mezzo. Vai, vai Angel. Vai Angel. Adesso ti ho visto l'anteprima di YouTube. Ah, 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 ah. Alto, bastardo. Con vista dentro. Ah, casino. Tutti sulla palla. Dai, per cazzo sto. via c'è anche il turmino, il turmino rosso che sai come si prende il turmino se l'hanno contrato o si sblocca ti ammazzo cazzo no, no, ho fatto una cazzata no, no, no che cosa è successo? non l'avevo visto e io sono andato a frontare senza saltare ti sei andato addosso e grazie a questo ho segnato io ho fatto fare il pallonetto grazie a me ha fatto perché lo volevo fare esplodere e quindi non ho saltato soltanto pensiero se siamo i blu dobbiamo vincere per forza opla opla mentre tutti arrivano col turbo io ho fatto vai cazzo si fa dintro ah no, ho segnato io no, hai segnato tu no, ho segnato io non aveva scritto l'assistenza carambola oh, siamo pari oh, sei bravo comunque, dai per non essere assurato ma non avrei mai pensato che ci avresti giocato a sto gioco io? c'era l'ultimo dei giochi neanche io che avrei pensato che potessi giocare no, troppo forte ah, mi sento in forma ah, si dice a c'era dentro ah, no ah, no ah, ah 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 fa culo uno a uno ancora stiamo però sta andando da quella parte eccolo, eccolo, eccolo eccolo nooo adesso senza turbo entra eccolo eccolo vai 2 a 1 ok 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 che cazzo è distrutto vittoria iniziamo a vincere non ci posso credere ormai siamo di pro sì siamo in gruppo siamo in gruppo fisso con questi due eh perché hanno visto che iniziamo a vincere anche perché svegli o male sono alla nostra vastesa bravura ma fanno gol a cazzo di cane, ballante a cazzo di cane giocano a cazzo di cane esatto probabilmente succhiano anche il cazzo di cane a cazzo di cane o il cazzo di cane entrando ah questa di notte mi sa non è ormai di questa arena vedo la sabbia che si muove iniziamo male il prossimo gol lo dedico a te il prossimo gol che facciamo non che subiamo cazzo che ho sbagliato oh no no merda è ancora di lì faccia di cazzo levati no 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 è la prossima cappellata che faccio la delco a stefani c'è tropezzi di copertoni che mi vengono addosso ma dove cazzo vai guarda questi pure stanno messi bene ho visto uno che volava eccolo no t'ammazzo no 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 che merda di tu in mezzo tacca di dio dov'è ecco la sto andando dall'altra parte per fortuna anche gli arancioni sono al nostro livello si per fortuna no guarda che cazzo di gol che ho fatto sempre che scantolo che schifo la volevo mettere in mezzo che coglioni ce ne hanno fatto così uno prima mi vergogno per questo lo detico a stare da notte che sono vergognosi sti arancioni comunque guarda se lo fanno da solo c'è qualcuno che mi è venuto addosso tatticamente bravo marco dio siamo andati in 6 nessuno l'ha presa ah bravo sono vergognosi bravo mi era tolta però fatto se vince si bravo colpo no attraverso una merda no perché ho saltato svegliato un salto bravo bravo troppo forte 30 secondi facciamo ancora in tempo a prendere due gol oh merda ah esplosco bell scoppiano tutti qui finita ah e abbiamo vinto si inizia a vincere con un po' di continuità ah ma ecco perché vinciamo guarda il ping quell'allarme mommy e si vedeva che ci avevano qualcosa e non andava con questo questi o erano senza braccia come dici tu Giappone Giappone quindi solo con quelli Square Enix che si blocca o con altri no non sono sicuro perché Resident Evil 2 non mi ricordo se non mi sembra però anche perché dovrei ricordare ce l'avevi per PlayStation forse è capitato sarebbe capitato anche in momenti molto concitati e non ricordo se mai è successo bestemmia si sentivano ancora ce l'avevi per PlayStation ma Resident Evil a parte che è ancora lì cioè non funzionerà più ma è ancora lì ma io ho fatto solo l'oscillario di Dio ma se non ci ha giocato più cazzo devo riprendere no e vai no 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 io le ho fatto le ho fatti tutte e due però invertiti vorrei farvi tutti e quattro però Mr.X mi metterà ansia io me lo son trovato davanti all'improvviso letteralmente bravo bravo come Mr.X salutiamo Mr.X da Resident Evil mi dedichiamo questo call quanti cazzo di giochi c'ho da finire sto però gioco questo che nemmeno ho comprato e infatti ti fa pagare l'ira di Dio per gli altri ci ho speso puri soldi giochi di merda poi ti trovi questi qua fatti qualche team di volontari vabbè anche questo è un gioco di merda però è bello affinché non rompi i coglioni no 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 porco di Dio sempre Kamato Kamato no no ecco il blu non si vince oltre il blu non si vince che cazzo ho fatto? nooo m***a eccolo eccolo ma bastardo me lo toglie che cazzo è? Che cazzo sta succedendo Guarda sto bastardo me lo toglie sempre Me lo toglie sempre Bravo, bravo Ok, no Tranquilli sto io in porta Ma me ne sono andato in realtà Non, 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 no Bravo no non è entrata e non grazie a me smetti di cularmi no 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 cazzo cazzo c'è finita è stata talmente intensa che non ci siamo passati del tempo 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 no era difficile anche buttarla dentro bene che si ferma prima di andare come si diceva tanto fanno tutto loro no 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 Lo scoppio. Ah, ma sei uscito tu? Eh sì. È sconchio, è sconchio. Cercando di capire cosa... Eh, quando inizia a fare così che cerca, cerca, cerca... Voleva fare tre contro tre. Sì, sì, ok. A meno che... Forse ho capito. Quando ti fa scegliere che tipo di partita, schiaccia il triangolo, che è selezione multipla, e poi fai trovare una partita. Ah. Così probabilmente te la cerca in generale. Ho preso il due contro due, che ovviamente sarà... Vediamo. No, ma quattro, quattro. Quattro contro quattro. Oh. Qualcuno, qualcuno, qualcuno... È morto. Eh, sempre così... È sofferto. Vai, 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 e go, il bomber. Cacca, un furgone. È uno squadrone questo, me lo sento. Cazzo, vado. Oh. Cazzo. Ne ho lasciata tutti. Pum. Ah, che cazzo. Eh, vaffanculo, bomber. Bomber di vero. No, no. Oh, cazzo. Sì, sì, mentale. Ah, che cazzo. Ma questi sono tutti italiani, secondo me. Sì, mentale. Ah, cazzo. Cazzo. Cazzo, che è un uomo spiloso, mentre si è tornato. Sì, è molto piuttosto che giocare. Sì, è autodistrutto. Sì, è stato spodere da solo. Kamikaze. No, no. Sì, è un uomo spiloso. No. Ah, cazzo. Ah, cazzo. Sì, cazzo. No, no. Come sempre. Lo so proprio che è calcio d'inizio. No, no. Oh, no, cazzo. Oh, ah, ah, ce lo facciamo cagare. Ah, che schifo. Ma e se fossimo noi quelli bravi e nostri compagni, quelli che fanno cagare? Eh, un po' cagare fanno, eh. Ah, bastardo, mi ha scoppiato Vai, niente, vai Andi lì, cazzo Mi scoppiano sempre questi bastardi Simental, maledì, tu Arco Vaffanculo Niente Ho fatto una capriola sulla fiducia Quasi senza vedere un cavo No, abbiamo perso pure questa Non entra sta puttana Vaffanculo Mi ho fatto sbagliare io C'entra, cazzo Mi sono andato addosso Dai, pareggiamola, pareggiamola 3 a 3 sotto la curva Mi sa che li scoppio io Perché faccio Un cazzo di salto No, no Mannaccia, la Madonna Mannaccia, Cristina Simental, la fa tutto simmental comunque Sì, fa tutto lui Sì Sto castrato di merda Segno da qua No, segno da lui No, no, no Manteniamo un po' di dignità almeno Tagliateci la dignità di giusto Goal No, no E niente, niente, niente Sì, inventarlo C'è uno nel loro gruppo che ha preso il trofeo scalda panchina Mi avrà fatto un cazzo C'è Rhynex che aveva scritto un chat Mia Mia E sto abbandonato la partita